Ho tre miei figli, ho tre miei nipoti. Nella vita ci sono tante cose che succedono ma è meglio non pensare alle cose belle, non alle cose brutte. E allora ogni tanto io mi metto lì e scrivo. Queste sono filastrocche per le mie nipoti. Vieni piccola mia, una storia ti voglio raccontare. Per far starpiti bimbi nei rigidi giorni d'inverno, quando freddo e neve chiuse facevano finestre e dusci, davanti al canino alla nonna facendo il fuso brillare storie di gnomi e folletti di fate con scintillante e bacchette magiche e carrozze trainate da mille cavalli bianchi, ai bimbi estasiati raccontava. Ora questo non succede più. C'è la tv con fantascientifici personaggi che con un cuneo tutto fanno esplodere. Giganti indistruttibili che tutto e tutti divorano e muoiono e risuscitano con troppa facilità. Dimma, piccola mia, che favola è questa qua! Grazie a tutti!